Siamo a metà maggio e ho testa e cuore al ritorno al lavoro di milioni di italiani. Febbraio è lontano. Semplicemente non abbiamo candidati nostri e il Quirinale non dovrebbe avere candidati di parte. Mi limito semplicemente a ricordare che se il Presidente Draghi ritenesse di proporsi, ovviamente avrebbe il nostro convinto sostegno. Però da qui a febbraio manca tanto tempo e quindi a differenza del PD, che a proposito di Bandierina ha almeno 10 candidati di partito come Presidente della Repubblica, noi aspettiamo il tempo dovuto e se Draghi ritenesse di fare quella scelta avrebbe il nostro convinto sostegno e lo diciamo fin da oggi.